Kate Middleton dona i suoi capelli, trasformati in parrucche per i bambini malati di cancro. Kate Middleton avrebbe donato i suoi capelli a un'associazione affinché venissero utilizzati per fabbricare parrucche da donare ai piccoli malati di cancro. Il Daily Express riferisce come la moglie di William d'Inghilterra avrebbe dato in beneficenza, al Little Princess Troust, circa 7 cm della sua chioma. Un'idea che le sarebbe venuta dopo una seduta dal parrucchiere reale, come ha riferito una fonte vicina alla Middleton, è bello pensare che da qualche parte una bambina stia indossando una parrucca fatta con i capelli di una vera principessa. È una cosa molto toccante perché Kate da parte sua è stato molto premuroso utilizzare dei capelli che altrimenti sarebbero stati gettati via. La donazione fatta in modo annonimo. Secondo la fonte, il fatto sarebbe accaduto quattro mesi fa e i capelli sono stati inviati con un altro nome, in modo che l'organizzazione non sapesse che provenivano dalla famiglia reale. Risulta soltanto che la donazione proviene da una donatrice nella zona di Kensington. Il Little Princess Troust aiuta a realizzare parrucche per bambini che hanno perso i propri capelli dopo aver ricevuto un trattamento di chemioterapia o radioterapia. Il precedente, anche Harry Styles donò i capelli. La duchessa di Cambridge non è il primo personaggio famoso a donare la sua chioma all'ente. Nel 2016, lo fece anche la star del lione Direction Harry Styles, che quando cambiò look tagliandosi i suoi celebri capelli lunghi, li inviò all'organizzazione. All'epoca, pubblicò una foto della coda recisa su Instagram, che raccolse oltre due milioni di like. Cos'è Little Princess Troust. Little Princess Troust è un'associazione creata dodici anni fa dai genitori della piccola Natharpley, morta cinque anni orsono per un tumore. L'organizzazione ha donato 5500 parrucche di capelli veri a bambini malati e si occupa anche di finanziare ricerche per curare il cancro infantile e studiare trattamenti meno deleteri. Un portavoce dell'ente benefico ha dichiarato di non essere a conoscenza di donazioni fatte dalla Middleton, non ne sappiamo nulla, ma se ci avesse mandato dei capelli potrebbe aver deciso di farlo in modo annonimo. Comprensibile, dopo l'attenzione prestata alla donazione fatta di Harry Styles. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS